Run like hell, run like the wind, run like the fire as the devil walks in I hear trouble, bring it by bed, turn it down baby, run like hell Bentornati amici di Obiettivo News, continuiamo con una nuova puntata del programma 2-4 ruote e passioni motori, siamo qui oggi in compagnia di Corrado Perino Buongiorno, benvenuto, pilota di rally dal 1993, 52 gare disputate con più vetture diverse Oggi fai da spalla e d'aiuto anche come tecnico di una scuola che è il centro tecnico federale che aiuta appunto e prepara i giovani piloti del domani Sì, è un'idea che già da parecchio tempo avevo in serbo e mi ha dato l'aiuto anche essere un maestro di sci allenatore, avere a che fare con i ragazzini e quindi insegnare le tecniche di guida per futuri talenti giovani anche di altre età per poterli far divertire in primo luogo in sicurezza e per far fare anche a loro alcuni risultati proprio per il mondo motosport. La scuola quindi si occupa di preparare i piloti quindi su asfalto, su sterrato e anche dare una guida sicura quindi aiutare come comportarsi in determinate situazioni. Come comportarsi perché non è solo le varie tecniche di guida, terra, asfalto, io come dico sempre prima la terra poi l'asfalto perché il rallye terra è nato sulla terra e come diceva il buon Schumacher il pilota più sicuro è quello più veloce quindi tanto divertimento tanta sicurezza in modo tale da fare velocità senza prendersi dei rischi cosa che purtroppo sulle strade anche quando vai a vedere una gara in macchina vedi tante situazioni un po' così quindi è meglio sempre avere un margine di sicurezza pur andando fuori. Il centro tecnico è a sede Roma quindi è un percorso, un progetto nazionale che poi si inserisce anche nelle varie regioni. 2018 l'ACI Sport ha indetto una campagna di sensibilizzazione per poter trovare personale che voglia proseguire non solo a Roma ma anche nelle altre regioni il progetto non solo giovani ma insegnamento rally quindi il nostro centro è proprio ufficiale ACI di cui io sono direttore della scuola terzo livello oltre il quale c'è i longhi della situazione e il basso della situazione che sono i nostri mentori poche parole. Ed è rivolta ai ragazzi Under 25 o a tutti? Allora è rivolta a tutti ovvio che un occhio di riguardo sempre per i ragazzini giovani proprio per invogliarli per portarli sulla strada giusta che poi magari un domani possono anche partecipare a gare internazionali. E per quanto riguarda la guida sicura una tua speranza per il futuro sarebbe quella di portare la guida sicura anche all'interno delle scuole, scuole come istituti superiori. Certo, guida sicura è sicuramente un passo iniziale per poter poi capire cosa vuol dire la guida sportiva, in effetti io parecchi anni fa ho eseguito anche dei corsi su Asusa dove c'è il centro di guida sicura e tanti esercizi si fanno a 50 all'ora quindi noi nella guida sportiva gli stessi esercizi in posizione di guida tutte queste cose qui la potremmo fare a altre velocità però la base è sempre quella in modo tale che già a 16-17 anni i ragazzini sanno a cosa vanno incontro quindi un po' di sicurezza nelle scuole ci sarebbe utile. Quindi per quanto riguarda proprio la scuola realistica dove è che svolgono, dove è che svolgete i corsi? Allora i corsi bene o male, brutto dirlo, è su strada aperta al pubblico sempre in ambito alla sicurezza stradale in base alle velocità che puoi fare, poi ovvio quando si tratta di una strada in montagna una marcia in più la tiri proprio per avere un'idea però il fatto proprio della guida sicura è a volte andare proprio a tu per tu con la strada di tutti i giorni. Stessa cosa anche la guida realistica, poi ovviamente si chiudono le strade, abbiamo un circuito bellissimo su terra a Romano Canavese, una strada sterrata lì vicino per fare in modo di sapere a cosa va incontro quando ci sono delle determinate situazioni di movimento della struttura della macchina e per poter poi ovviamente progredire con le tecniche di guida e ce ne sono tante. Quanti allievi ci sono attualmente? Allievi più di 15, pian pianino, io dico sempre a piccoli passi bisogna sempre andare avanti, mai fermarsi, il fine è sempre quello, cercare di progredire con tanta qualità. io proprio il nostro obiettivo è avere qualità nelle nelle scuole nelle nelle motivazioni anche dei dei ragazzi in modo tale che per fare in modo che spendano meno soldi in eventuali incidenti poi succede l'inconveniente succede però proprio qualitativamente bisogna sempre avere quello lì come arma principale. Gli allievi disputano il campionato Pimonte o anche altri? Altri campionati anche italiani, come lo scorso anno abbiamo vinto e siamo arrivati secondi a certe certe gare importanti, certi campionati importanti con i ragazzi, certi ragazzi e proprio per farli uscire dalla nostra bambagia regionale. in modo tale da andare a scontrarsi con gente del posto che magari più conosce meglio le strade quindi e poi anche per il bagaglio tecnico conosci molto di più, conosci tipologie di di geografia stradale, noi la chiamiamo proprio così perché è proprio una geografia stradale in modo che è una prospettiva futura, una speranza è quella di riuscire a creare una scuola, un'academy diciamo sull'impronta del nostro Valentino Roche. Del nostro Valentino, sì sì in effetti è un progetto a breve termine, siamo già avanti abbastanza bene in modo tale da dare disponibilità ai ragazzi Under 25 soprattutto, talenti, dargli la possibilità di allenarsi con dei mezzi, infatti siamo già quasi abbastanza disponibili con i mezzi di allenamento e in modo tale da dire a loro ragazzi voi pensate a trovarvi gli sponsor per gli affitti delle macchine per tutte queste cose qua che l'allenamento ci pensiamo noi e quindi è un progetto per i quali sono fiducioso. Quindi le macchine le mettereste a disposizione voi? Loro si cercano, dovrebbero cercare di allenamento? Le mettiamo a disposizione, le mettiamo a disposizione macchine, mezzi di allenamento in modo tale da far acquisire esperienza su un'trazione anteriore, posteriore, 4x4 macchinette estreme come le chiamo io in modo tale da avere un pilota con una buona esperienza su tutto. Che poi può adattare? Che può adattare alle varie esigenze della prova speciale, delle gare che ci sono in giro per l'Italia e sperando anche in campo internazionale. Perché poi diciamo il problema legato a questi sport sono sempre i costi? E sono sempre i costi, purtroppo sono sempre più alti, anche lasciamo stare l'affitto della macchina ma proprio in sé benzina, gomme, assistenza, sono costi veramente alti da sostenere C'è un limite un po' di questo sport C'è un limite, sì che limita tanto perché magari c'è l'atleta, il talento solo che purtroppo non ha un bagaglio Sempre il solito discorso Sono identiche Bravissima, purtroppo così, però io sono sempre fiducioso di cercare di dare una mano ai volenterosi Ovvio, i ragazzi devono allenarsi, questo è uno sport, come la pallavolo Un allenamento, quindi anche un allenamento fisico? Fisico, mentale soprattutto perché anche come io la vedo anche come il punto di vista sci, allenamento sci e l'allenamento mentale nei giorni nostri è fondamentale, quindi pensa con la macchina che è ancora più importante Tra adesso abbiamo parlato solo di piloti i navigatori, che spesso e volentieri vengono lasciati ad un ruolo marginale che poi non è perché è fondamentale avere un buon feeling con il proprio navigatore Esiste ovviamente la scuola per imparare a leggere le note, a prendere le note un supporto maggiore anche per questo ruolo? Sì, anche nel nostro interno come scuola c'è la figura del navigatore che può insegnare ovviamente a tutti ha anche un certo livello di esperienza due o tre ragazzi che sono in grado di dare delle delucidazioni a tutti assolutamente e il navigatore è il 50% dell'equipaggio per forza di cose c'è il pilota e c'è il navigatore è un tutt'uno e come dico io quando ogni tanto faccio ancora qualche gara lui è il capo lui decide io ascolto quel che dice lui quindi ha un ruolo come spesso non si dice ha un ruolo ma ha anche un si deve saper gestire si di fatti un mio navigatore che corre con me che corre anche con un certo Fabio è veramente molto preciso e sono contento che fin dalla prima gara ci possa essere stato lui a dare una mano a Fabio per i risultati che hanno fatto certo se ci fossero in ascolto dei ragazzi interessati entreranno a parte della scuola possono mettersi in contatto ci mettono si mettono in contatto con me poi tanto il la mail magari ve la lascio più tardi assolutamente un numero di cellulare tanto non non disturbano anzi per fare un un primo approccio per far capire la bellezza di questo sport ma trattato con certi criteri non così allo sbando però con tanta sicurezza come dicevamo e tanta tecnica di guida che è la cosa fondamentale e i risultati certo non è subito tac però se uno segue infatti Fabio, Fabrizio e Nicola anche Andrea che Andrea ha iniziato ha fatto due o tre gare ma si è comportato benissimo e tutti altri ragazzi che già gli anni scorsi hanno fatto dei bei risultati e le stanno ancora facendo bene su ti ringraziamo di essere stato bene io ringrazio voi perché è un'esperienza veramente per far conoscere anche la nostra la nostra scuola certo e poi un po' il mood di questo programma certo posso ringraziare una persona certo in tutto questo l'ingegnere Marzato che ha creduto fin dall'inizio è un'amicizia grandissima tra di noi ed è veramente stato colui che ha spinto anche perché conosce conosce tanta gente tanti personaggi in ACI perché è stato anche un ingegnere di ACI quindi grazie ancora per lui grazie a voi per quanto avete fatto grazie noi amici di Obiettivo News vi salutiamo e vi diamo appuntamento ad una prossima puntata continuate a seguirci su Obiettivo News e su tutti i nostri canali social a presto